Il percorso per il 2017 di eventi avuti nella Dermenesar Gallery dal critico Marco Dolfini. Questa sera è una sera perché sono veramente felice di vedervi tutti insieme alla Cittura dell'Anno 2017. Bene, buonasera a tutti. La cosa è molto semplice. Si tratta di quell'opera che vedete qui dietro che adesso mettiamo in evidenza. Questo signore qui, penso non è andato in presenitivi perché era stato definito il minesterno di l'Anno. E' stato definito il minesterno di l'Anno. Abbiamo colto l'occasione di questo finissage per la consegna degli attestati delle mostre che si sono organizzati fino ad ora in questa gallegra. Allora possiamo già iniziare dalla consegna. Dorena Semenzato Mauro Modiglia Giampaolo Carlegaro Ecco, grazie Luciano Disperdi Lo visto prima Ecco, bene, grazie Un sorriso, un sorriso Claudio Barbierdini Avidei Renzo Gianella Laura Spiso Un sorriso, grazie Un sorriso, grazie, un sorriso, signori Bene Il suo ellero Giuseppe Grombin Un sorriso, grazie Un sorriso, un sorriso, signori Bene Anna Utrandi Ghentoff L.G. Joe Un sorriso, grazie Un sorriso, grazie Un sorriso, grazie Un sorriso Massimo Gasparone Un sorriso, grazie Sandro Pavan Eccolo qua Bravo Sandro Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo, bravo Bravo, bravo, bravo Bravo tutti Un sorriso, grazie Signori, un sorriso Bene Stefano Zanus Stefano Zanus Stefano Zanus Stefano Zanus Sorriso, sorriso, fermano, sorriso Bene Alfio Quintavalle Pasquale Mazzullo Giovanni Fasan Susanna Penzo Giuseppe Pasquaretto Giuseppe Pasquaretto Giuseppe Pasquaretto Sì, lui porta, lui porta Midonia Stevanato Midonia Stevanato Aida Zaret Gabri Pan Grazie 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 signori A parlare maestro Filippo Lui è un attimo perché Giustamente lui se lo merita Con tutto il rispetto Filippo poi avvicinati per piacere Dopodiché facciamo l'avviso per 18 conditori Grazie a tutti Come sempre sono onorato Di far parte Delle iniziative del DEM Luciano Calegaro Se vi posso fare un'attenzione Un applauso per voi Perché vedo che ci manca l'attestato Quindi un applauso per maestro Luciano Maestro Io mi chiedo scusa perché adesso siamo Vedi conto perché ci sono due artisti E quello maestro Io vorrei fare Passare parola Perché la scuola com'è c'era un'attestato E il Presidente bene merito De la Dabene Sargale E anche lo faccio Faccio parte di una squadra Straordinaria Io sono un Con due membri E con loro in qualche modo Credo di aver dato qualcosa Comunque vi ringrazio tutti Grazie mille Marina Dina Asis Domitro Avvicinatevi Lenzo Gianella Pasquale Mazzullo Venite davanti Tutti per piacere Avvicinatevi Facciamo una foto Di scuola Tutti assieme Per fare un servizio Qualsiasi sia Non è facile Giorno per giorno Da domenica a sabato Incluso anche la domenica A volte Siamo felici Di fare un servizio Per artisti Lo siamo a tutti Ma intanto Ci benveniati Con le nostre opere E questo mi fa molto piacere Un abbraccio caloroso Di affetto Estima E amicizia A tutti Vi ringrazio E vi faccio auguri Grazie a tutti Per la vostra presenza Buonasera Grazie 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 Grazie